a motivo del successo dell'interesse riscosso al mio video sul bugiardo patologico e su alcuni miei articoli sul narcisismo presenti nel mio sito psicologo in rete.com ho deciso di approfondire un pochino questo argomento allora partiamo dal presupposto che il narcisismo è un elemento ineliminabile della psiche umana ed ha una sua utilissima funzione quella che potremmo definire con parole un po semplici la funzione dell'amor proprio cioè di quella capacità di darsi un valore e di curare il proprio interesse curare il proprio interesse tuttavia non trascurando l'impatto che questo amor proprio ha sulle persone circostanti quindi non trascurando il valore dell'empatia che è la capacità che noi abbiamo di metterci idealmente nei panni dell'altro una capacità che abbiamo tutti tranne il narcisista patologico nel quale si rileva proprio un limite empatico o nei casi più gravi proprio un'assenza di empatia quindi il narcisismo patologico si gioca soprattutto nella qualità delle sue relazioni interpersonali e dal rapporto superficiale si riconosce dal rapporto superficiale con il proprio mondo interno poiché dietro questa maschera di grandiosità di arroganza e di magnificenza si nasconde un vero sé particolarmente fragile e fragilizzato è importante sapere che lo stereotipo del narcisista per come viene comunemente indicato il termine cioè legocentrico esibizionista e arrogante è solo un tipo di narcisismo riconosciuto dalla clinica altri autori per esempio hanno creato altre categorie ci hanno illustrato altre categorie gabbard per esempio ci ha descritto una differenza la differenza fra il narcisista e per vigile e il narcisista inconsapevole il narcisista inconsapevole è quello che più generalmente assomiglia al narcisista per come viene descritto comunemente per cui stiamo parlando di una persona che tende a essere autocentrata tende a essere egocentrica ad attirare la cerca l'attenzione degli altri eccetera il narcisista ipervigile invece è più occulto è una persona che tende a mettersi in disparte ma in disparte ad invidiare a continuare a fare dei paragoni fra sé e gli altri per cui può essere una persona livorosa rancorosa e appunto come ho detto invidiosa d'altra parte millon un altro autore ha descritto diversi tipi di narcisisti per esempio ha descritto il narcisista senza principi c'è il tipo antisociale che è quello più predisposto a delinquere ad essere arrogante a colpire le altre persone e violare le leggi poi ha parlato di un narcisista compensativo con elementi evitanti e negativistici cioè è una persona che cerca di compensare una profonda percezione di inferiorità e inadeguatezza facendo della propria vita una una ricerca di continui traguardi e compensazioni poi sempre millon ha indicato il narcisista elitario che in qualche modo il cui quadro si può assimilare a ciò che viene descritto nel dsm che ricordo è il manuale diagnostico più in uso in ambito psicologico e psichiatrico e stiamo parlando di un soggetto che cerca privilegi cerca una vita facilitata e la sua paura maggiore è quella di essere una persona normale una persona comune in ultima analisi abbiamo poi il narcisista seduttivo cioè la variante estrionica che è quello che più facilmente può essere all'inizio affascinante interessante e che però poi spesso si rivela un bugiardo patologico prima ho citato due termini vero se e falso se questi sono molto importanti per comprendere il narcisismo ma per comprendere il significato di questi due termini occorre spiegare con un termine molto difficile qual è l'eziopatogenesi cioè qual è l'origine della patologia narcisistica e la clinica ha alcune ipotesi più accreditate vediamo quali sono la prima ipotesi è quella proposta da kernberg ovvero quella di un genitore in questa situazione abbiamo un genitore freddo e indifferente anche anche sia aggressivo e sprezzante verso il figlio il genitore può supplire a questa freddezza affettiva emotiva trovando nel figlio un elemento eccezionale all'interno della personalità del figlio un elemento specifico eccezionale che fa di questo figlio il genio di famiglia una prospettiva che per il figlio stesso diventa rifugio per un pervasivo senso di inadeguatezza la creazione di un sé grandioso e narcisistico diventa quindi la soluzione più probabile anche perché è l'unica che il genitore sembra accettare il narcisismo patologico fungerebbe quindi da meccanismo di difesa che va a compensare un'integrazione delle rappresentazioni positive e negative di se stesso però a differenza del disturbo borderline dove abbiamo questa scissione fra elementi positivi e negativi e il soggetto borderline passa salta appunto come una bandiera da uno all'altro risultando squilibrato cioè senza un equilibrio il vantaggio del narcisista e ciò che lo fa risultare poi sostanzialmente più strutturato è che lui si appoggia definitivamente al lato idealizzato rifiutando il lato negativo di questo lato negativo cosa ne fa essenzialmente lo butta lo scarica sugli altri tuttavia il senso di perfezione del narcisista è a tutto nulla cioè se non si è perfetti si è imperfetti se si è imperfetti non si vale nulla benché il narcisista spesso si comporti come una persona che non ha bisogno degli altri anche perché questo bisogno degli altri lo fa sentire incompleto e gli ha profondamente bisogno dell'ammirazione dell'altro per poter mantenere integra la propria immagine grandiosa l'altro quindi è contemporaneamente un amato salvatore e un odiato rivale le rappresentazioni negative come ho detto prima vengono proiettate all'esterno il che rende impossibile un coinvolgimento profondo nelle relazioni interpersonali poiché l'altro viene continuamente svalutato e questa proiezione è ciò che spiegherebbe l'atteggiamento paranoide del narcisista che dopo una prima fase di affascinazione di affascinamento di sopravvalutazione della relazione che sta vivendo finisce per usare il partner come una discarica psichica delle proprie immagini negative interiori la seconda ipotesi c'è offerta dall'autore benjamin per benjamin i genitori hanno trasmesso al figlio una sopravvalutazione della sua importanza lo hanno cioè viziato non hanno contenuto il suo naturale narcisismo infantile quindi il bambino diventa sua maestà il bambino e viene diseducato e i genitori mettono in secondo piano i propri bisogni di adulti per soddisfare ed anticipare quelli del pargolo allora il bambino capisce che gli altri non hanno una loro legittima identità e che possa necessitare di attenzione l'assenza di regole e di un certo grado di severità impedisce al bambino di comprendere che le proprie azioni hanno conseguenze sulla vita degli altri che naturalmente porta lo porta a diventare egocentrico e li crea un danno rispetto alla sua capacità empatica e in età adulta diventerà quindi più probabilmente rabbioso ogni volta che le proprie necessità non verranno soddisfatte subito da notare che in questo quadro educativo non è raro che il genitore trasmetta contemporaneamente un soggiacente timore di caduta dallo stato di grazia con un'enfasi sulla perfezione cioè il genitore ammira il figlio ma non gli permette errori come dire sei perfetto e ti amiamo per questo ma non rovinare tutto se no il sogno è finito la terza ipotesi è quella offerta da coat allora lo sviluppo psicologico ha inizio in una fase di indifferenziazione definita narcisismo primario in cui la personalità cioè il sei del bambino non esiste la madre soddisfa inizialmente le necessità del neonato in un modo pieno perfetto no al bambino peraltro inizia a capire che tali gratificazioni vengono dall'esterno allora poiché nessuna madre è capace di un perfetto accudimento diversi bisogni del bambino vengono comunque frustrati causando nel bambino vissuti di vulnerabilità che lui compenserà richiamando mentalmente quel perfetto stato di gratificazione precedente in cui erano presenti sia da un sé un sé onnipotente sia un'idea di madre perfetta quella che viene definito oggetto interno ma non soffermiamoci adesso su questo termine allora il narcisismo quindi non sarebbe una condizione patologica ma una normale fase evolutiva infatti l'educazione all'empatia di coloro che si prendono cura del bambino cioè quelli che vengono definiti caregivers li farebbe nel tempo abbandonare questa posizione narcisistica tuttavia se avviene una grossolana mancanza di empatia da parte dei caregivers di chi si prende cura del bambino allora il bambino si arresterebbe in questa fase evolutiva e il sé grandioso prenderebbe il sopravvento per difenderlo da un mondo sostanzialmente incerto e minaccioso dopo aver descritto le diverse categorie che hanno a che fare con il narcisismo e aver dato una spiegazione rispetto all'origine di esso proviamo a vedere come il narcisista si comporta nelle relazioni umane nella coppia e con le altre persone in modo da poterlo intercettare per tempo e comprenderlo meglio allora come abbiamo detto ha un falso sé quindi mostra uno charme disinvolto e superficiale col quale catturare l'attenzione e la stima delle altre persone allora sempre parlando delle relazioni con gli altri non tutte le forme di manipolazione del narcisista sono arroganti e grandiose narcisista si vende spesso con parole che sollecitano empatia motivo per cui incastrano poi facilmente persone sensibili tanto appunto da spingere gli altri ad aiutarli con favori speciali con regali o altro usano il trucco del povero me della persona che non è stata mai capita che non è stata mai amata che è stata abbandonata e sfruttata e questo è il tipico quadro descritto da una categoria diagnostica non più esistente nel dsm ma che però a mio modo di vedere aveva un suo notevole valore clinico che era il self defeating personality disorder che è qualcosa che ha a che fare col quadro del masochismo narcisistico allora poi sempre nel rapporto la relazione passerà velocemente dall'idilio da una fase di idilio a una decisamente di possesso controllo e isolamento e non solo fisico ma anche psicologico peraltro narcisista tende ad alternare fin da subito un sottofondo emotivo precoce affettivo precoce anche esagerato ad azioni a sottilmente malvagie nonostante sia uno stereotipo però in parte sempre valido soprattutto quando si tratta di maschi suoni come un campanello d'allarme un'eccessiva cura estetica a meno che non sia motivata da fattori specifici come possono essere sportivi o di lavoro soprattutto quando questa eccessiva cura estetica va ad intaccare poi gli elementi affettivi la resa affettiva o relazionale ora fate molta attenzione alla sottile tecnica del gas lightning che è un termine che deriva da un'opera teatrale del 1938 che è gas light in quest'opera si raccontava di un marito che cercava di portare alla pazzia la moglie manipolando alcuni elementi dell'ambiente nello stesso modo la persona che usa la strategia del gas lightning praticamente fa proietta fa credere alla persona di essere in errore che sono successe cose che non sono successo oppure che non siano successe cose che in effetti sono accadute per cui sostanzialmente la vittima finisce per essere in qualche modo la colpevole di come stanno andando negativamente le cose nel rapporto rispetto al suo rapporto con gli altri il narcisista tende sempre a mostrare a proiettare nei loro occhi questo se è grandioso e ipertrofico per cui a mantenerlo vivo può comunque arrivare anche a dire che non ha sogni grandiosi e particolari ambizioni ma questo solo perché così si eviterà di dover competere per queste ambizioni in modo da non dover mai gestire la frustrazione di aver fallito ora molti di questi soggetti sia che siano maschi sia che siano femmine hanno uno stile di vita parassitario cioè sfruttano gli altri sia economicamente sia emotivamente che anche in altri modi di fatto il suo grande problema è che non riesce mai entrare in contatto empatico con gli altri per cui quando si trova di fronte a un problema delle altre persone non riesce a reggere adesso in una maniera cinica sdrammatizzante o ironica ma piuttosto la sua reazione è definibile negativistica e svalutativa allora per concludere la morale che il narcisista patologico è di fatto una morale a qualcosa lo porterà a violare le regole però non aspettatevi che le violi in una maniera grossolana come potrebbe fare uno psicopatico disorganizzato tenderà invece ad aggirarle e ad eluderle in una maniera molto sottile e molto intelligente la scaltrezza la tendenza a giustificare atti negativi sono due buoni indicatori del comportamento narcisistico quando poi di fatto nella società di fronte agli altri tenderà a propagandare un'immagine di sé come morale o iper morale mentre invece nel privato si compiacerà dei propri atti negativi e soprattutto del fatto che la farà o che l'ha fatta franca la moralità insomma risulta per il narcisista un limite e per un suo stesso limite ad accettare la realtà per quella che è lui tenderà a piegarla completamente e eventualmente a piegare le sue vittime fino a farsi risultare come una vittima spero che questo video possa esservi utile io vi saluto e vi invito a lasciare i vostri commenti e iscrivervi al canale ciao io vi saluto e vi aspetto al prossimo video no non ridere così perché dai cazzo no 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 dai provare per credere no no allora non è male provare per credere come si chiamava augusto abbondante augusto no no e cosa dei angeli guido dei angeli bello cosa devi fare ah si no 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 no